La Terra di Piero, associazione di beneficenza che da anni ormai opera nella città di Cosenza e nata nel 2011, adesso ha anche una sede. Finalmente, come dichiara anche Sergio Crocco, presidente dell'associazione, un luogo fisico dove sarà possibile ritrovarsi e dove si potranno ideare i tanti eventi promossi dall'organizzazione No Profit. Ma questa sarà la casa di tutti, pronta ad accogliere qualunque evento, dalle feste private alla presentazione di libri. Un servizio del tutto gratuito. Molta la gente che ha deciso di partecipare alla cerimonia. La Terra di Piero adesso però si prepara all'inaugurazione del traguardo più importante raggiunto. Un parco giochi dedicato ai bimbi diversamente abili e finanziato anche grazie al noto spettacolo con Sativici.